Ehi la salve a tutti sono ThePlayer96 e benvenuti in questo nuovo episodio e nuova serie Siamo sulla mappa dei dropper 2 e in compagnia con me c'è Witherboy Perché devi sembra pari da dietro? Allora prima di cominciare la mappa diciamo che avevamo in mente di fare un'altra mappa Che però c'erano talmente tanti punti in cui bipare per bestemmie che partivano che abbiamo deciso cambiarla Anche perché era leggermente impossibile Ho fatto coso ma è il seguito quindi Esatto feci un po' di tempo fa se vi ricordate la custom map cazzeggio Che era praticamente la mappa era TheDropper la prima Questa qua invece è la successiva Allora le impostazioni qui le abbiamo già messe quindi non le mostro Ok questa E qua cosa c'è scritto? Reinizia il live... Perché hai cliccato? Avevamo appena cominciato cosa serviva Non ne so Oh Eh andiamo Un tasto Premi 3 2 1 Che cazzo è il game mode? Smi Ah eccoci Wow Perché ci sono le lampade storte lassù? Ma tu dove sei? Perché ci sono le lampade storte? Guarda Dove? Quassù Oddio Vado subito velocissimo Anch'io Abbiamo speed 4 ecco perché Questi pressur plate controllano che i livelli sono stati fatti Ok partiamo dal livello 1 direi subito Ma che è che è? Questa lampada vuole dire Vuole dire Perché c'è fogo? Di quanto è stato trovato? Come c'è fogo? Dove lo vedi scusa? Ok vai Oddio guarda gli spuncioni sotto Madonna Vabbè Livello 1 Questa lampada vuol dire il livello è stato fatto Vai Son dentro Livello 1 Narcobaino leggimi Il pulsante di italia ti soffertà secondo la tua posizione in questa stanza Siediti su blocco giallo e stai fermo Live che c'è scritto? Ritornare nella prima stanza Ok Ah dobbiamo andare nel punto giallo? Wow Bisogno sopravvivere Non ce l'ho fatta Porca miseria è difficile questa Come faccio a mirarlo giusto? Cazzo Io non ci riesco Possibile Premi con sto tasto Dobbiamo andare al centro qua Ah siamo così fatta Cazzo per poco No perché qua dice no di andare al centro del coso della cosa gialla lì No No So cascando nell'acqua ma morto Io non l'ho fatto No No Porca miseria Ti levi Porca miseria 5 a 5 vai 5 a 5 Ok Sto dentro Dai ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio E' impossibile Bisogna stare fermi sul blocco giallo ce l'ho scritto Ma vaffanculo Oh Sei fatta Oh 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 Si Ce l'ho fatta Oh e cos'è? C'è un diamante e un livello Aspetta aspetta Io c'ho il coso delle morti qui che mi sta dando fastidio Un attimo che le cancello Ce l'ho fatta E non riesco a capire niente perché mi appaiono così delle morti e mi confondono la visuale C'è che hai detto? Attenzione 8 a 6 Opzioni That point of Oh Dai oh Chi vincerà questa sfida 8 a 6 vai E tu No vabbè in generale alla fine della serie Oh porca Oh devi sta fermo non devi muovere niente Sul giallo al centro del giallo Eh E io muoio scommessa Non muoio niente Eh Hai visto non muovere niente Vido sta Mi capisci mi Ciao a tutti io sono ThePlayer96 E non so fare un salto Mi muoio in tutte le mappe Sì Oh ma cos'è? Non ci riesco Perché te sei sempre culo a fare le cose? Ok questa è bravura Ma che bravura Oh dai ma ero dentro Come ho fatto a morire? Mi se sono spiaccicata le ossa dal niente Dai resta aspettata Dai Ma no Ce n'erano due Ce n'erano di salti Da becca Sta rosicando una cifra ragazzi No non sto a rosicare 14 14 Oh ma mi metto in creative Do sta fermo? Eh moio io se sto fermo però Se sa perché Sono stato fermo Sono stato fermo Sì cazzo Sì C'ho fatta Cos'è? Mi ho messo il diamante L'hai già messo? Sì Ok Bisogna premere qui E dove si ritorna lì? Ok si sono accesi tutte e due Quindi abbiamo preso sia il diamante che il coso Livello 2 Eh sto andando a livello Il livello precedente deve essere stato fatto per sbloccare il livello successivo Eh grazie al cazzo Oddio cos'è? Sto a morì Se cade Che devo fare? Ah ma vaffanculo Che spavento Ci sono i ragnatele Non muori Oh Eh mi sono bloccato Eh mo? E devi uscire qua Eppure io Hai 5 secondi per correre Nel centro della stanza Su blocco giallo Sempre su blocco giallo Devi stare Sì Eh mo? Trovo modo per arrivare in basso Pazzo Sì ma a me mi lagga se guardo in basso Sì pure io a me Perché sei caduto? Io metto sul normale Se no mi lagga Eppure io Tanto in fondo non si vede lo stesso Ok non mi lagga più No È impossibile No Oh su qui Faccio mezzo qua Hai bestemmiato Non puoi aver bestemmiato Devi ricordarmi Dove devo bippare adesso Aia Neck Ho bestemmiato E mi hai crashato Mike Ci sta bene Si sta bene Si sta bene Eh mo devo dirlo Io mi sono bloccato qua Ma muoio se mi butto Ah no Ho una cesta Il diamante E devo metterlo nell'ender chest E mo Devo scendere ancora Oh mi tippo eh Eh no devi farlo Aspetta mo dove devo andare Come devo farlo E come hai fatto a farlo E mo E mo Io non ho capito Se devo andare giù in fondo Se devo restare qua Aspetta aspetta Io mi butto No No Non farlo Ah ok Ho fatto Ho fatto Ho finito il livello Ritorno alla stanza dei livelli Fatto Puoi uscire Ho finito il livello Ah no Per sbloccare il livello La luce sotto Ah non l'ho completato Dove arriva proprio in fondo In fondo Dirlo prima Come? Aspetta Non ho capito niente Aspetta La super velocità Finchè ce l'ho Corro nel blocco giallo Ok Ho capito come scendere Di sotto No che muoio Vaffanculo Sposta ti sposta Ti sposta Ok E io avevo trovato Come si scendeva Così E sopravvivi Con mezzo cuore Poi si scende Pian pianino Fin qua E poi da qui Ci si comincia a buttare Come dei pazzi Dove si cosa Con mezzo cuore? Eh è difficile Spiegare dove Da qui Devi buttarti tipo Su quella specie di scalette Maia Ok posso buttarmi E mo mezzo cuore Mezzo cuore Me t'ho detto Aspetta Devo ricaricarmi un po' la vita Perché sto muoio E devi continuare a scendere Ci sono un po' di stradine Nascosto Ok Fin qui Sei su E poi Oh ma io Ho già 17 morti Vaffanculo Mannaggia che volo Oh Qua ci muoio Perché scrivi Fufus Oh io me butto Se muoio Muoio No perché te tipi Mentre non devi Stavo vedendo dove buttarmi Dove sto? Ok Dove? Lei continua a scende Ci sono tutti gli appigli in giro Tu continui a scendere Ma dove dove? E scendi Ci sono gli sportelli Là E gli appigli Sono quasi giù in fondo Dai Ok mi butto Giù Aia Beh E qua devo ricaricarmi un po' la vita Oh è difficile Però scendere Porca puttana Oh No non posso morire Non posso morire Ma tu ti leva? Non molto Uh Eh questo è un salto bello alto Qua ci muoio Vabbè dai Sono full vita Aia Perché devi fare ste cose? Oddio se non ce la faccio la riva Madonna È difficilissimo la parte dove sto io Aia No 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 Piano 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 Ok non dovrei morire Ok Poi qui E sono arrivato in fondo E sono arrivato in fondo No non saltare che muori Ok Emo Eh io sono arrivato in fondo Emo C'è un cartello Aspetta Di qua Dice di andare di qua Aspettami Dice di andare di qua Ah eccolo qua Trovato Il pulsante blu Oddio come si fa Sto anch'io a cesto Ma come fai ad aprirla in volo Cazzo L'ho fatta L'ho fatta Ah si L'ho fatta Eh ma bisogna pendere quella cesta in qualche modo L'ho fatta Oh non ci riesco Come si fa Figa Vai sulla Soprattutto sulla sinistra Eh lo sto provando Adesso Perché vado lento Perché qua c'è Boh Che figata E mo Ah c'è la frecciona Vabbè chi se ne frega È il diamante In sto livello Dai namo Eh io sto andando Però me perdo È il pulsante nero Per trovare la cesta Quello azzurro Aspetta Voglio provare A trovare la cesta Che cazzo è fatto Te fa vola altissimo E non mori Non riesco ad aprirla la cesta Non riesco ad aprirla la cesta Aiuto Oddio Che cazzo ho fatto Non lo so Però puoi Puoi vola per un attimo Se premi il tasto nero Eh ho fatto Dov'è la cesta La cesta Dove sta Dov'è la cesta Eccola Mi è finito l'effetto del volo Ce sto Ce sto No Per poco Ho trovata Oh non ci arrivo Non ci arrivo Inutile Oh io la voglio la cesta È arrivata cazzo Voglio tutti i diamanti Mi devo spostare un po' più in avanti Vai 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 Ma la prendo No Come ho fatto a morire Per poco Oh ultima volta poi me ne vado Io no Oh sono sulla cesta Ce l'ho fatta Diamante Nell'ender chest Vai ce l'ho fatta Scendo Sì ce l'ho fatta Vai andamocene Dov'è la freccia Lì Oh cazzo Vai vai via Ma che è sta cosa qua che vai piano Sai che non lo so Boh Io torno ai livelli Vai anche il 3 completato Oddio se corri velocissimi Aspettami però Aspettami Voglio andare insieme Dov'è stai? Livello 4 vai Dov'è stai a te? No no andare Non andare Aspetta Aspetta Devo fare una cosa Cos'è fa? Aspetta Bene Vello 4 Dov'è? Qui Porca puttana Qua È livello 4 No questo è livello 5 Già stai a di È il 4 Ah è vero Se chiama simboli Oddio non mi piace Dove devo andare? Qua 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 Su blocchetto strano Simboli Oh Devi colpire la lava Eh sì perché si vede che c'è lava e poi acqua sotto E tu devi passare Beh è facile Dovrebbe essere facile No ok la mia teoria era sbagliata Ah ti dà fire resistance Ti dà fire resistance Ti dà fire resistance Ti dà fire resistance Eh fai resist No memorizzare i simboli C'è scritto Ah c'è scritto memorizzare i simboli E li ho memorizzati E mo Ah solo uno dei quattro buchetti nella lava è libero praticamente Bisogna vedere quale Questo No Ma a me è fatto Al primo è fatto Ah il primo Da dove parte scusa Eh infatti Da questo cerchio strano Tipo Aspetta non andare Voglio dire pure io Ah sei stupido No era l'altro No era l'altro quello indietro Non sono riuscito a spostarmi Da fermo Fermo Dov'è Quello dietro di me è quello Infatti Poi c'era questo No Aspetta Cerchio strano Chiave Cerchio strano e chiave Basta che mi ricordo sti due Poi gli altri mi vengono a me in mente Cerchio Cerchio strano Questo Poi chiave Che non c'è Chiave Come non c'è la chiave mo Allora è la croce tipo Porca miseria Che è difficile Oh Eh io non ho memoria Come faccio Cerchio strano La croce Eccola qua E la croce Eh non è la croce Ecco Ah C'è neanche uno sul soffitto Guarda beh È quello là In quale posizione vanno Cioè in quale direzione Allora il primo l'abbiamo trovato Il secondo È questo qui A sinistra Sì Poi c'è A chiave C'è la croce Poi c'è il triangolo Oh ce l'ho fatta Però qui c'è la chiave La chest Volevo prenderla Eh io ce l'ho fatta Però volevo la chest Io no Aiutami E mo dove è una Questo nero E mo Io non ce la faccio Ma è facile Quali sono i simboli Cerchio strano Cerchio strano Un simbolo stranissimo La chiave Sì Ci stanno tanti Eh devi ricordarti Solo uno di quelli È quello giusto Chiave Oh no Che palle Che strano La chest è al piano di sopra Come ci salgo Porca la magnotta Mi dici Oh Ah ok ok Ho trovato come Raggiungere la chest Oh affancuso Ho caduto Cosa c'è fai là No Te l'hai trasportato Oh non riesco a mira giusto Aspetta E devo andare a prendere la chest Se riesco a beccare quel buco Eh in quel buco qua Che non riesco a mira Oh Eh ce la farò prima o dopo Ma va che sfiga Te lo metto è storto Qua in modo che non ce la devi fare Ce l'ho fatta No era ancora un piano più in su Qui Porca Qui Qui devo stare Dove sono morto E mo come fa a sapere dove sono morto io Era tipo qui dove sono io adesso Oh porca mia Ok ce l'ho fatta Dove sta la chest Perché non la vedo la chest Sì l'avevo vista prima Oddio non riesco a raggiungere il tasto Qua Porca mignota Oh Oh Eh io mi Ay Cominciamo bene Che l'ho fatta Che l'ho fatta